Musica Signori e signori buongiorno e benvenuti alla Castelrando Cup 2012 Facciamo un bel applauso per iniziare questo evento Applausi E' la prima giornata di questa competizione e la sessione 1 è dedicata alla competizione amatoriale di danze standard e di danze latinoamericane Vogliamo iniziare subito la competizione presentandovi il nostro eccezionale pannello G12 Iniziando dal nostro direttore di gara, il maestro Gerry Abrace All'Italia E vi presentiamo ora i nostri giudici per le danze standard, le danze latinoamericane Dall'Ucraina, from Ukraine, Mr. Sviatoslav Vloch From Russia, Sergei Rubin From Lithuania, Vitautas Dugnauskas From Ukraine, Vladislav Keku From Scotland, Caroline Smith Dall'Italia, il maestro Giuliano Nironi Sempre dall'Italia, il maestro Alberto Vendovato Ancora per l'Italia, la maestra Evelina Gobbo Ancora per l'Italia, il maestro Ginnetti Daniele Per l'Italia, il maestro Gianni Cucce E chiudendo in bellezza, sempre dall'Italia, il maestro Cristian Bertini Un pannello di giudici eccezionale, signori Ed ora, signori, per dare inizio alla competizione Vorrei che ci accassimo tutti in piedi Perché iniziamo con l'inno d'Italia Grazie